Gli approvvigionamenti sono già piuttosto ridotti e la situazione sta peggiorando per la popolazione civile la cassia sarà indebitata quando capirete che cos'è smetterete di lamentarvi per differenza il cibo sarà riservato ai soggetti che prendono parte al programma di ricostruzione al numero di nuovi rimpiazzi per gli anziani che man mano estano di scena è stato posto un limite la cruda realtà è che la maggioranza di loro morirebbe di malnutrizione nel corso del tempo ma non prima che i loro genitori abbiano dedicato preziose energie e riservi ambientali per curarvi sperteranno le conseguenze delle risorse necessarie al programma di ricostruzione alla fine di evitare un simile spreco ogni soldato tornerà al proprio domicilio spie e sopprimerà un bambino il più giovane possibile e comunque al di sotto dei 5 anni immediatamente dopo si metterà a rapporto presso il più vicino comando della difesa al cielo indicando l'ubicazione del cadavere al fine di eliminare il medesimo secondo dell'ordine sanitaria e dei vicetti un anno fa un tale ordine sarebbe stato impensato in quanto non necessario ma ormai per lo scambio nucleare ha distrutto le stesse basi economiche della nostra società la popolazione sembra ormai composta da soli individui con una mano e due nelle bocche e quindi nella guerra moderna la leva obbligatoria viene stesa a tutte le fascette che fa? la mancata potreferanza a tale ordine sarà passibile della pena di morte la mancata può fare